Guardo, non continuare a chiedermelo perché... Allora, ecco. La foto, non so come spiegartelo, è l'unico della casa editrice. Questo, vedi questo? Perché la foto, questa, è... Mi segui? Sì, sì. È stata... Io spero che... Io spero che tu capisci. Vedi, qua c'è scritto Tony Egger, ma è invece Luciano Egger questo. Quello sai che è... Te lo ricordi quella storia del taglia la corda che almeno tu ti salvi? Scusi, chi... No, no, questo non... Beh, c'è scritto. È... E... 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 foto vedi che c'è scritto Tony Hager sulle placcheri mentre invece è una foto scartata alla fine della prima spedizione. Cosa ha scritto qua giù? Me lo puoi leggere che così per la filmata sarà. Allora dico questo è un errore della casa editrice questa la foto questa è stata scattata da me a Luciano Hager durante una perlustrazione che abbiamo fatto al fine della prima spedizione e in Patagonia quando c'era il Bruno del Tassi. E come mai non se ne è accorto? Eh perché 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 non me ne sono accorto dopo ne sono accorto quando è venuto a fare il casino ho visto che questo libro ci sono state molte parecchie edizioni si si tanto ti è scritto qua tutto. Non ha mai visto che c'era non ha mai visto che c'era l'errore con Hager? Eh ma sai non è che sono lì che non me ne frega niente ma sai niente Maledetta alla volta che sono andato a cerruttore. Maledetta perché io sono Cesare Maestro, anche senza cerruttore. Come scrivi Charlie, scusa? C-A-C-H-A C-H-A C-H-A-R-L-P-E Ti faccio praticare un po' Se fosse mille, quello lì andrebbe bene. Questo lo posso tenere? Sì, anche questo. Benissimo. Non ci sono andate, non ci sono andate. È un po' più grande. È un po' più grande. Oggi è... sì, è un po' più grande. Allora, guarda, io ti do questo libro che è l'ultimo, qui c'è la prefazione del presidente del CAI, poi la prefazione del presidente del festival dei quali sono tutti il suo senorario. E qua, questo ti dice quali sono le vie che ho fatto, vedi? Ah sì, bene, questo le volevo chiedere. Tutte le, vedi, le più importanti solitarie che ho fatto, no? Vedi, non so se... Eh sì, mi interessa questo, è di buona, le tassi... Sì, vedi, vedi? Tutte le solitarie. Sì, la soledera civetta che è così difficile. Sì, allora, più importante, se hai fatto la discesa solitaria, è la via delle guide. La via delle guide. Questa, guarda. Via delle guide. E la via delle guide l'hai anche discesa, discesa, che... Ho fatto in discesa la prima solitaria. Sì, sì. Come, come, come... Come fai in discesa? È che è così difficile? Perché mi sono... Non vedi, non vedi cosa... Perché io lo fievo qua all'inizio, vedi? Quello, quello... Aspetta. Tu ti ricordi le sensazioni? Cosa... cosa succede quando... Quando scendi a solitaria? È scritto qui, dai. Sì? Avevi la corda? L'ho scritto. Ho scritto tutto. Ecco. E' anche delle più importanti solitarie. Grazie. Ma ci faccio più grasso, io. Qua, guarda. Ecco. Ecco. Leggi il finale qua. Ecco qua. E così, sto sfruttando questa mia dote, incominciare ad affrontare... Mi entusiasmaio fino al primo momento, soprattutto quando scoprì che, contrariamente alla quasi totalità degli altri arrampicatori, a me veniva più naturale la discesa. Ecco. Vedi che c'è scritto tutto. Invece più naturale. Ma come lo spieghi questo? Eh, non lo so. Cose naturali, come faccio? Perché ero piccolo, corto, dozzo. Come fai a vedere? Perché scendendo non vedi... Eh, infatti è per quello che ho buttato giù la corda, lo fevo. Sì. No? Capisco, capisco. Ecco. Mi puoi fare anche la dedica per questo? Te l'ho fatta o no? No, 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 l'hai fatta su questo. Questo mi piacerebbe molto. Con l'aena? Sì. Vieni, grazie. Un, due, tre. Come va a te? Sì. Sei stancato? Sì. No, stancato. Sono finito. Uno colo? Grazie. e tra firmo anche questo ecco grazie mille sei un po di tempo per la parlare di come hai incominciato la è scritto qui si è tutto scritto si non ho cuore che vedi qua se prendiamo la prima prima di tutto anche le stesse presentazioni del presidente del cai e del festival lo spiegano anche loro tutti è sempre piaciuta la solitaria c'è anche scritto per qual motivo come già si è tutto scritto 6 me lo puoi dire posso dire sì è lunga però è complicata allora quando io ho deciso di vivere in montagna e della montagna allora in quel momento e sono andato facevo il portatore sai cos'è il portatore quelli che portano da mangiare al rifugio a loro non c'erano mezzi di come adesso teleferiche e cose del genere bisognava portare tutti tutta la schiena e partivo da Molveno 800 metri e andavo ai 2000 metri e rotti del 1500 del rifugio dopo di che io mangiavo qualcosa i miei compagni scendivano e io invece andavo a rampicare e siccome non c'era sempre non c'era sempre disponibili compagni ho cominciato a rampicare da soli e ho visto come piacere da soli e allora ho cominciato per quello che ho cominciato a rampicare da soli contro chi contro chi come lo scrivi ho visto che spesso c'è allo stesso momento c'è il piacere e la qualcosa che è difficile non è questo che ti accoglie adesso si ho avuto qualche battibecco ma tutti nella vita hanno avuto qualche scontro qualche scontro al rinimodo e qui qui c'è dentro tutto 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 bene questo è ancora qua bene e quello è quello che stavo dicendo e io volevo che mi parlassi anche della città tu hai ricordi della mamma? no, è morta che vivo sette anni e non hai nessun minuto? sì, ho scritto qui no, è morta che ero piccolo siete anni e non hai un'immagine? no, è vero no, è vero aspetta eh quando è sparita ecco, vedi? qui ecco se vuoi leggerlo qui è, vedi? questo da questo momento qua ah, ricordando mia madre perché sono morti tutti sì e la sorella Anna è quella che hai dato il nome a una che hai fatto in sì, era una bravissima era un premio quello che è il corrispondente del premio del 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 più grande premio per gli attori per gli attori era un'attrice? era un'attrice ha scritto, vedi? sì ricordando mia sorella ecco, vedi? era un'attrice il tuo padre era un era un attore era un attore ma c'è scritto anche quello sì anche mio fratello Giancarlo era e questo cos'è mio? Gino Pisoni che mi ha iniziato ah beh, quello che mi ha iniziato ah beh, quello che mi ha iniziato vedi? c'è tutto mi sovella Anna ricordando mio fratello Giancarlo e tu hai fatto l'attore? no 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 sì per sopravvivere ma non ho fatto niente mi sono sempre ecco vedi ricordando mio padre che era un era un irredentista trentino sai di quelli che sai che sono gli irredentisti che rischiando la vita si erano combattevano per l'Italia e tu hai combattuto? da partigiano da ragazzo sì in modo c'è dentro tutto dentro tutto tu lo leggi vedrai che trovi tutto proprio e oddio cosa stavo dicendo e mi chiedevo se avessi ricordi di Luzzatti che ha fatto una bella prefaccia ecco anche sì ma almeno dici così se posso leggere questo dopo? sì ma te lo do sì mi interessa che mi il mio papà trentino i buzatti come lo hai incontrato? c'è scritto qua Dino Buzzatti vedi? Riccardo Cassini Cesarino Fava no i buzatti mi interessa perché è un grande scrittore, l'hai incontrato in montagna? Siete andati in montagna insieme? 75 107 Ancora uno, ecco, guarda, trovi tutto perché trovi tutto questo, vedi? Grandissimo, dunque viene Me lo potresti leggere, questo che è così, con la filmata, ma da qua, ma soprattutto Ma soprattutto un grande, parlo di Zino Buzzatto, un grande grandissimo amico al quale dopo la morte avvenuta nel 72, quando era morto ho voluto dedicare una salita, aprendo una via nuova sulla parete nord intitolata a Dino Buzzatto, lo visto? E qui racconta la storia che era rimasto molto colpito del fatto che nel 54, cos'era? Ecco, lui, mi era volato un compagno, attraversata, questo diciamo ecco, no? Mi chiediamo proprio Ecco, lui, mi era volato un compagno, attraversata e mi ha detto, siccome mi ha tirato la testa in giù taglia la corda che almeno ti sa di tutto ma c'è scritto tutto Ah, Giulio Facciamo solo il weekend Sì, sì Ma tu, quando lo leggi, trovi tutto 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 Ah sì, questa è la storia del campanile basso dove Ecker è caduto Sì E tu l'hai... E dunque... E' così che hai incontrato Buzzatti? Sì Che è la prima volta che scriveva... Sì, sì 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 No, guarda, finisce bene Anche questo me lo puoi... poi fermiamo Me lo puoi leggere questo? Ah, se lo lego Se lo lego Che mi interessa... Sì, sì, mi interessa Sentire Ah, il grande Dino Buzzatti, appassionato dalla nostra avventura scrisse questo articolo sulla Domenica del Corriere illustrato in prima pagina dal celebre disegnatore Walter Molino L'articolo si intitolava Taglia, taglia, che almeno tu ti salvi Vai lungo E cosa riferisce questo taglia, taglia? Taglia la corda che almeno ti salvi tu Capisci? Siccome io sono caduto a testa in giù E quello che dicevi tu? Tu dicevi a Ecker? Non lui, io Lui 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 lo diceva Luciano, che era appeso alla corda Sì Urlava Taglia Cesare La corda che almeno ti salvi tu Capito com'è? Capisco Sì, capisco Ma hai spiegato benissimo Sì, sì Io spero che... Ok Poi mi puoi parlare un po' di come hai incontrato Tony Ecker? Sì Ah E... Dunque Io... Se non ero... Io non ero... Lo leggerai qua, no? Vedi Lo conoscevo perché veniva al festival Ciao, buongiorno, sei scolto E poi la seconda spedizione in Patagonia Doveva venire il capitano, allora capitano degli alpini Claudio Baldessari E lo stato... L'esercito non l'ha lasciato Allora mi hanno detto Ma per... Un compagno, un amico Mi ha detto Ma perché non vai con... E io lì ho conosciuto Ma non sapevo Chi... Capisci Io lo conoscevo di nome e basta, no? E poi... E quando... E vedrai che lo leggi qua Quando ci siamo... Era... In quel momento Era il più forte escalatore su ghiaccio Del mondo, no? E allora C'era una specie di gara tra me e lui Vedi Chi faceva di più, no? C'è scritto anche qua Anche quello Ad un modo Questo te lo lascio Ti lascio anche questo Sì Questo lo ha... Dice Cosa è accaduto? Ecco Io di più Non so cosa dirti Forse quello che mi interessa E se hai ricordi Di come era Eger Durante l'inizio Della spedizione Che avete speso Un mese circa Insieme? E di più Perché Prima siamo stati In Argentino A Buenos Aires Sì E poi dopo siamo andati E... Sai Ti dico Lui parlava benissimo italiano No? Sì E... C'era questa... Era coperto da questa sua grande fama di arrampicatore su ghiaccio Capisci? E quindi Ti ripeto Il momento in cui abbiamo cominciato No? Intanto Avevamo già Deciso Che ci saremmo scambiati I ruoli di capo fordata Dice E allora Lui per il ghiaccio E tu per la roccia? No, no No Ogni fila Ogni... Ogni... Ogni tiro Cambiate Sì Sì E allora Io Quando era Il mio Il mio Momento Capisci? Sì Io cercavo di fare di più di quello che Che ero capace di fare Non so se ne ho L'idea Capito? Perché c'era un po' di competizioni con me Ma no Era logico Non è che c'era Una competizione Però Era Era logica Non è che c'era Ah io sono più bravo No Tu sei più bravo Così Non abbiamo mai parlato Siamo sempre stati così Calcolando uno Bravo No? E allora io Automaticamente Però Dentro di me Dentro di me C'era questo Questo desiderio Di dimostrare Di più di forze Di quello che sapevo fare Capisci? Sughiarci Non so se rende l'idea Sì, sì Capisco E come è andato? Siete diventati amici? Sì, sì Non ci sono state tensioni? No Mai E lui non sava bene all'inizio Aveva un problema con il piede? Sì Sì Beh, va bene Ma vogliamo Questo non è Per niente Non c'è mai stato un Ben che più minimo Screzio Capisci Proprio Siamo sempre Siamo subito diventati Grandi amici E ammiratori Uno dall'altro Dunque lui Su ghiaccio Era molto impressionante Era il più bravo del mondo In quel momento E si vedeva Quando lo vedevi Quando lo vedevi Come è Si vedeva Perché sai E si vedeva